Dopo tante disfatte arriva un ennesimo taglio, questa volta un po' più pesante, non sostenibile economicamente. Che cosa si deve fare? Che cosa intendete fare? C'è un taglio non soltanto non sostenibile economicamente, un taglio che va a colpire i bisogni dei cittadini. Milioni di prestazioni non verranno date e non possono essere date perché con il decreto 128 il commissario Scura ha deciso di ridurre i bisogni dei calabresi, di non rispettare neppure i livelli essenziali di assistenza. Qual è il prossimo passo che intendete effettuare per fermare questo taglio insopportabile? Intanto abbiamo già fatto e stiamo facendo una serie di riunioni nelle varie aziende. Abbiamo già comunicato ai vari direttori generali l'impossibilità a sottoscrivere questi contratti. Devo dire che anche molti direttori generali si trovano in grossa difficoltà. A Reggio Calabria per esempio lo stesso direttore generale riconosce il fatto che non può assolutamente soddisfare le esigenze e i bisogni dei cittadini perché le sue strutture, quelle direttamente gestite, quelle dell'azienda sanitaria non sono in condizioni di dare quelle prestazioni che invece il commissario Scura dice che bisogna dare all'interno. Mentre le strutture private accreditate, che sono delle strutture pubbliche a tutti gli effetti, queste prestazioni le danno regolarmente. Pensi che oggi nella riunione che abbiamo avuto a Crotone è venuto fuori che ci sono delle prestazioni, una mammografia, si arriva a una prenotazione ad aprile a maggio del 2018. Prestazioni che noi invece possiamo dare nell'arco di 24 ore. è qualcosa di assurdo, non può essere accettato dal cittadino. Noi chiediamo quindi non soltanto alla politica di fare un passo avanti. Perché deve essere fatto un passo avanti? Perché i politici rappresentano i cittadini. Chiediamo anche ai cittadini di ribellarsi a questo decreto che nella sostanza va a limitare le prestazioni e quindi a non poter soddisfare i fabbisogni dei cittadini stessi. Ecco, stiamo assistendo tra l'altro a un duro scontro tra il presidente Oliverio e la Lorenzin che da Roma dice che il governatore in questo caso, come tutti gli altri, deve attenersi solo ad attuare le leggi che il governo centrale dà. Mi pare che insomma questo sia uno scontro che purtroppo rientra in quello che sta facendo il commissario, Massimo Scura. A me pare che francamente la posizione della Lorenzin sia in nessun modo comprensibile. Non è comprensibile perché molto probabilmente non conosce la realtà della sanità in Calabria. Da quando c'è il commissario, da quando c'è stato il commissariamento in Calabria abbiamo una diminuzione dell'assistenza in Calabria. Siamo tornati indietro di decine di anni, non di uno o due anni, decine di anni. Siamo indietro in tutto. I cittadini non sanno più a chi rivolgersi per avere un minimo di assistenza. D'altra parte il fatto che negli ultimi anni l'immigrazione sanitaria è aumentata, la dice tutta. Ecco, allora qui non si tratta di uno scontro tra il governo centrale e il presidente della giunta regionale o tra il commissario Scura e il presidente della giunta regionale. Qui il problema è che non vengono date le prestazioni ai cittadini. Scura sicuramente si è dimostrato poco competente nella materia che gli è stata affidata. Non è riuscito a risolvere alcun problema. Ha permesso con la sua azione la chiusura di numerosi ospedali. Oggi tenta la chiusura anche delle strutture ambulatoriali nel territorio. Dove vuole andare non si riesce a capire. Non c'è un piano ben preciso da parte di Scura e credo che questo sia quello che ha fatto anche scattare la molla alla politica e anche al presidente della giunta regionale. perché il fatto che il presidente della giunta regionale e i politici in qualche modo devono dare conto ai cittadini, in qualche modo periodicamente si sottopongono al giudizio dei cittadini. Il commissario Scura in questi anni non si è mai sottoposto al giudizio dei cittadini. E allora è bene che se ne vada perché quello che è chiaro è che nella regione Calabria noi i servizi sanitari oramai non ce li abbiamo più in molti settori. Quindi è necessario che ci sia un cambiamento di rotta, che ci sia un cambiamento di rotta da parte del governo centrale, che ci sia un cambiamento di rotta da parte del commissario Scura e siccome lui non lo può fare è bene che si metta da parte. D'altra parte abbiamo un commissariato al piano di rientro che è oramai dimezzato. Da mesi non c'è il suo commissario. Da mesi assistiamo a continui diatribe tra il commissariato al piano di rientro e il dipartimento, tra l'indirizzo del Consiglio regionale e il commissario Scura. Ma che aspetta il ministro alla salute a prendere dei provvedimenti e ad allontanare questo commissario? Logica vorrebbe che ci fosse una sintonia, che si parlassero. Perché di mezzo l'assistenza sanitaria è uno dei punti più delicati nell'amministrazione della cosa pubblica. Francamente l'unico modo per risolvere il problema in questo momento è l'allontanamento di questo commissario che ha dimostrato di fare politica, cosa che non dovrebbe fare. Dovrebbe invece risolvere alcuni problemi di carattere tecnico, ma ha dimostrato di non saperli affrontare. Prenda per esempio il problema della specialistica ambulatoriale. In questo settore noi abbiamo avuto dei tagli pesanti negli anni scorsi. Oggi lui propone non soltanto tagli, ma propone di ridurre le prestazioni di specialistica ambulatoriale per abitante. Perché è vero, lui dice, io devo rispettare un piano di rientro che prevede 12 prestazioni per abitante per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale. Ma se lo scorso anno sono state date soltanto 9 prestazioni per abitanti e tu oggi mi tagli altre risorse, queste prestazioni per abitanti non saranno più 12. Saranno di gran lunga inferiore a quelle 9 prestazioni per abitanti che ho assicurato lo scorso anno. Pensi che nelle altre regioni il numero di prestazioni per abitanti è superiore a 20 prestazioni per abitanti. La media nazionale è di 16 prestazioni per abitanti. Mi pare francamente che i calabresi non possono essere trattati come i cittadini di serie B in Italia. Le tasse le pagano tutte, le paghiamo tutte e la sanità deve essere garantita a tutti o attraverso la gestione diretta o attraverso le strutture private accreditate che danno le stesse prestazioni con la stessa qualità delle strutture pubbliche con gli stessi prezzi con le stesse tariffe e senza liste di attesa.